Ok ragazzi ci troviamo, vedete questo è un minaretto di una moschea, ci troviamo sempre a Samarkand, adesso saliamo e vi farò vedere qualcosa di bello a Samarkand in Uzbekistan. Grazie per il signore, thank you, adesso andiamo, stiamo salendo eh, guardate le scale, è tutto buio, guardate i gradini, qui una finestrella non si vede un cazzo. Ok, stiamo raffredendo la luce, perché il minaretto non è altissimo. Questo è quel che si vede dall'alto del minaretto, questa è la moschea, prima sono entrato, questo, sempre sta marcando, ok? Moschea di Atrat, notare le moschelle, vedete? Queste moschelle li ho visitati stamattina, ok? E questo è il panorama che vedete. Ci sono turisti, per caso, ok? Vedete questo è un cimitero che sorge davanti al moschea, le rapidi, sempre altro cimitero, e questo è... e quelle sono le moschea, altre moschea, in lontananza, ok? Siete pure state su minaretto, le scale da qui si scende, il soffitto. Ok, avete visto?